Lo slittamento dell'inizio del campionato nel classico effetto domino diluisce anche la preparazione della Virtus che inizierà il ritiro direttamente a Roccaraso il 15 di luglio. Giorni utili per aggiustare l'organico e inserire altre pedine utili alla causa. Praticamente definito l'arrivo dalla fiorentina del centrocampista classe 95 Leonardo Capezzi con gli ultimi dettagli solo da limare, il club rossonero in queste ore è al lavoro per l'ingaggio di un altro centrocampista. Si tratta di Alberto Grassi dell'Atalanta. Proprio sull'asse Bergamo-Lanciano potrebbero chiudersi altre trattative con i prestiti dell'attaccante classe 93 Simone Magnaghi, la punta esterna Dudu Magni e la conferma del terzino Andrea Conti che ha manifestato la volontà di giocare un altro anno in terra frentana. Già acquisiti a titolo definitivo invece Federico Di Francesco e Marco Di Benedetto, entrambi attaccanti e del difensore Filippo Penna, tutti di poco sopra i 20 anni. Si profila dunque la tendenza del club a ringiovanire la rosa investendo sulla linea verde. Novità anche nell'organigramma del club, con una nota sul sito ufficiale, la Virtus rende noto di aver affidato l'incarico di responsabile dell'ufficio stampa Federica Rogato, fino a qualche giorno fa detto stampa del Pescara, poi non riconfermata dopo sette anni, in un vero e proprio minestrone dai colori rosso, nero, bianco e azzurro. Simone Serrano, che per due anni ha ricoperto il ruolo con gentilezza e disponibilità, è stato ringraziato da frase di prassi per la professionalità e la passione dimostrate in queste stagioni trascorse insieme. Secondo alcune voci, a lui era stato proposto il ruolo di team manager al fianco di Gici Diomede, ma le garanzie non sono state giudicate vantaggiose dall'interessato. Simone Serrano se ne va col magone un pizzico di rammarico da parte dei giornalisti, la riconoscenza per aver lavorato sempre con grande correttezza. Ci mancherà.